Ancora temporali eventi forti in Sicilia, ma al tempo allerta gialla in tutta l'isola, sospesi i collegamenti con le isole minori. Le vittime denunciano nell'ennese due arresti e 20 persone indagate per i delitti di usura, istorsione e autoriciclaggio. Una piazza di spaccio a conduzione familiare è stata smantellata dai carabinieri di Gravina di Catania, otto le ordinanze di custodia cautelare. La donazione del sangue e cultura alla regione siciliana ha avviato un'interlocuzione con le scuole per spiegare l'importanza della donazione. Il premio Oscar Nicola Piovani apre a Modica la stagione musicale del Teatro Garibaldi sul palco con note a margine. Ben ritrovati al primo appuntamento con l'informazione di Media News di oggi martedì 22 novembre, ma il tempo ancora temporali eventi forti in Sicilia e allerta gialla in tutta l'isola, sospesi i collegamenti con le isole minori. Temporali venti e burrasca e mari agitati, continua l'ondata di maltempo in Sicilia. Come ampiamente annunciato, il ciclone poppea è arrivato e già da ieri sferza lo stivale da nord a sud con ubifragi e neve a bassa quota nelle regioni settentrionali e con piogge forti venti al sud, soprattutto in Sicilia, dove la protezione civile conferma l'allerta gialla fino alle 24 di oggi per tutte e nove le province dell'isola. A Palermo è caduto un palo della luce nella zona noce e si è abbattuto su un'auto in sosta che solo per un caso, al momento dell'impatto, era vuota. Nessun ferito dunque, ma numerose le richieste di intervento, giunte al numero di emergenza per gli allagamenti. Per tutta la notte i vigili del fuoco hanno operato nel vicino comune di Morreale e nella frazione di San Martino delle Scale, dove a causa delle forti raffiche diversi alberi sono finiti in strada, intralciando la circolazione. Al momento il traffico aereo rimane regolare, ma si registrano forti disagi nei collegamenti con le isole minori. Il forte vento da sud ovest e il conseguente aumento del moto ondoso, anche oggi, tengono navi agli scafi che collegano le isole olie, ormeggiati nel porto di Milazzo, con inevitabili disagi nelle scuole, negli uffici e nel rifornimento delle attività commerciali. Alicudi, Filicudi e il piccolo borgo di Ginostra non sono raggiungibili da oltre 60 ore, mentre Salina, Panarea e Stromboli sono isolate da oltre 48 ore. Le uniche isole che sono state raggiunte ieri da un mezzo sono state Vulcano e Lipari, grazie ad una corsa straordinaria della nave Laurana, che ha poi fatto ritorno direttamente nella città del Capo. Primi fiocchi di neve a piano battaglia nel Palermitano. Dopo il passaggio del ciclone, la pressione tornerà ad aumentare, riportando il sole su quasi tutte le regioni, ma si avrà un generale abbassamento delle temperature. Da venerdì 25 poi un altro ciclone sarebbe pronto a impattare sull'Italia, minacciando con il mattempo l'ultimo weekend di novembre. Le vittime denunciano nell'Ennese due arresti e 20 persone indagati per i delitti di usura, estorsione, autoriciclaggio e demissione di fatture false. Vediamo il servizio. Scoperto un vasto giro di usura, riciclaggio ed utilizzo di fatture false gestito da due fratelli di Leonforte, che approfittando delle difficoltà economiche causate dall'emergenza Covid-19, prestavano del denaro a imprenditori locali in grave crisi di liquidità. L'operazione full control, condotta alle fiamme gialle della tenenza di Nicosia, ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautolare nei confronti dei due presunti usurai poste domiciliari, con il contestuale sequestro preventivo di beni e denaro per circa 400.000 euro emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Erna al termine di un'indagine durata oltre un anno. Sono complessivamente 20 le persone a vario titolo indagate per i diritti di usura, estorsione, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, emissione di fatture false e dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Decisiva la collaborazione fornita dalle vittime degli usurai. Dalle indagini è infatti emerso che due arrestati, una volta concesso il prestito ed obbligata la vittima al pagamento mensile degli interessi, sempre superiore al limite massimo fissato alla legge, dinanzi alle prime difficoltà manifestate dagli imprenditori nei versamenti periodici, li avrebbero costretti a cedere a titolo di garanzia le proprie quote societarie, talvolta in modo occulto, altre volte attraverso la loro formale acquisizione, accompagnata tuttavia da pagamenti fittizi. In altri casi la concessione del prestito sarebbe stata subordinata all'acquisizione delle quote societarie a titolo di garanzia e alla conseguente pretesa per la restituzione del prestito e degli interessi di una parte dei ricavi aziendali. Le investigazioni, svolte anche attraverso indagini bancarie, hanno consentito di ricostruire prestiti concessi ad un tasso di interesse che in alcuni casi avrebbe raggiunto il 200% annuo. E proseguiamo con la cronaca. Una piazza di spaccio a conduzione familiare è stata smantellata dai carabinieri di Gravina di Catania. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del capoluogo Etneo nei confronti di otto persone indagate a vario titolo per furto, ricettazione, estorsione, detenzione illegale di armi da fuoco e spaccio di sostanze stupefacenti. Una piazza di spaccio a conduzione familiare è stata smantellata dai carabinieri di Gravina di Catania. L'ordinanza del GIP ha disposto la custodia in carcere per quattro indagati e l'obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria per altri quattro. L'indagine, denominata testugine, durata dall'agosto del 2019 al gennaio del 2021, è scaturita dall'arresto di Manolo Caponnetto per un furto in un'abitazione a Mascaluccia e dalla sua decisione di dare indicazioni sul suo complice e sul ricettatore dell'area furtiva, Ignazio Giovanni Tommasegli. Grazie ad attività tecniche con videoriprese, osservazione, controllo e pedinamento, i carabinieri hanno evidenziato come l'operatività del gruppo criminale fosse concentrata soprattutto nei comuni di Catania, San Pietro Clarenza e dell'Interland Etneo in generale. Il promento dei furti sarebbe servito per alimentare la bancarella del mercato delle pulci di Catania gestita da Mario Tomasegli, padre di Ignazio. In particolare, indagati, sostiene la procura etnea, per compiacere o anche per ottenere da quest'ultimo dosi di sostanze stupefacente, sarebbero stati soliti procacciare specie di volatili protetti e anche ornamenti comunali, questi ultimi sottratti alla Municipalità di San Pietro Clarenza e successivamente utilizzati dagli indagati per abbellire un complesso popolare nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania. Dalle indagini dei carabinieri sarebbe emerso anche che, in alcune occasioni, gli obiettivi da depredare sarebbero stati caldeggiati a Ignazio Giovanni Tomasello da uno degli indagati, in quel momento detenuto nel carcere di Termini Marese, ma in possesso illecitamente di un telefono cellulare. Tomaselli, seppur ai domiciliari contesta la procura, sarebbe riuscito, con l'ausilio del padre Mario e della moglie, indagata ma non raggiunta dalla misura cautelare, a gestire dalla propria abitazione una fiorente attività di spaccio di cocaina, con un introito medio di circa 300 euro giornalieri, attraverso cessioni effettuate dal proprio balcone. In alcuni casi, a garanzia del debito scaturito dalle cessioni della sostanza stupefacente, Tomaselli avrebbe trattenuto la carta del reddito di cittadinanza o la post-pay dell'acquirente, da cui, a titolo di penale dovuta a ritardo nei pagamenti, avrebbe prelevato indebitamente somme di denaro. Nel corso dell'attività, tra l'area furtiva recuperata, spittano anche alcune tartarughe di terra, da qui la denominazione dell'attività testuggine, il reinvenimento di un fucile calibro 12 e di un piccolo quantitativo di cocaina e marijuana. L'ordine degli ingegneri di Messina contesta l'accelerazione del governo Meloni sul superbonus e chiede misure più flessibili per evitare i disagi al settore. Andare a cambiare, andare a modificare una procedura, la cosa che più è saltata agli occhi è che noi contestiamo e che ci sono oggi almeno, ci sono 10 giorni, cioè entro il 25, entro la prossima settimana, sarebbe necessario che tutti i condomini che hanno in cantiere, che hanno previsto, che hanno deliberato le procedure per accedere al superbonus e quindi il superbonus non significa solo denaro, significa mettere in sicurezza gli edifici, privilegiare il risparmio energetico, quindi mettendo i condomini in una condizione di riqualificazione energetica dell'intero immobile. Il superbonus significa anche mettere in sicurezza gli edifici, ricordiamoci che c'è la parte che è relativa alla messa in sicurezza sismica dell'edificio, quindi ci sono tutta una serie di situazioni che oggi potrebbero venire a mancare. Chi, specie nei condomini aveva deciso di deliberare, di accedere a questo beneficio, ha oggi 10 giorni di tempo per chiudere tutte le pratiche, per mandare, per avviare la procedura della CILAS, che serve la comunicazione di inizio lavori al comune e quindi chiudere, quindi con delibere che spesso sono anche complesse, una procedura che si era messo in cantiere almeno doveva durare fino al 2023. Non vogliamo farla durare il 2023, chiudiamola, ma chiudiamola a dicembre 2022, ma non in 10 giorni. Cioè siamo a una situazione veramente di, perdonatemi e consentitemi anche un termine proprio di uno stato di polizia su una misura che invece sta aprendo prospettive di lavoro non solo per chi è interessato al settore, professionisti, imprese, operai, ma anche per mettere in sicurezza, lo ripeto, un patrimonio edilizio che, specie a Messina, noi vediamo quanto è degradato e quanto ha bisogno di essere messo in sicurezza. Cioè non si capisce questo carico di tensione su una misura che è economicamente indispensabile e da un punto di vista ambientale e di sicurezza del territorio forse lo è ancora di più. La crisi attanaglia aziende e famiglie, le richieste al governo di Asso Esercenti, un'impresa. Dottore Politino, un momento di crisi, un momento in cui le aziende non ce la fanno più, ma qual è? C'è una soluzione a parte il governo nazionale, regionale? Voi come categoria? Cosa state facendo? Allora, intanto il momento è drammatico. C'è un'analisi che abbiamo fatto come Asso Esercenti, un'impresa e ci sono oltre 100.000 imprese siciliane a rischio. Purtroppo in una fase di vuoto istituzionale si aspettava l'insediamento del nuovo governo sia nazionale che regionale. Oggi ci siamo. Quello che chiediamo sono delle pochissime proposte serie e concrete. L'estensione del credito d'imposta per le imprese non energivore dal 30 al 50%. Una nuova moratore Abbi, l'allungamento dei periodi di preammortamento dei mutui che sono stati erogati tramite il fondo di garanzia e l'allargamento della percentuale di garanzia da parte del fondo centrale dal 70 al 90%. Al governo regionale chiediamo in maniera chiara un indennizzo a favore di quelle imprese che stanno subendo passivamente il caro energia e che giornalmente fanno enormi sacrifici per poter andare avanti come attraverso l'istituzione di un bando IRFIS che prevede un contributo a fondo perduto del 70% e un finanziamento a tasso zero del 30%. Queste sono le proposte su cui bisogna dibattere. In prospettiva futura vedremo su come lavorare sulle energie rinnovabili, ma oggi c'è un tema che ha un carattere d'urgenza. La salvaguardia e la salvezza delle piccole e medie imprese siciliane. Rispetto a questo il governo nazionale, che è fortemente rappresentato anche da numerosi esponenti siciliani e il governo regionale, hanno l'obbligo morale e istituzionale di dare queste risposte. La donazione del sangue è cultura. In Italia e anche nella nostra regione i donatori hanno più di 46 anni. La regione siciliana ha avviato una interlocuzione con le scuole per spiegare l'importanza della donazione. Il problema di cultura è quello che sta mancando. A luglio, quando il direttore del Centro Nazionale Sangue, il dottore De Angelis, in sede plenaria ha raccontato a noi responsabili dei centri regionali sangue la situazione nazionale degli ultimi dieci anni e ci ha fatto vedere che c'è un decremento molto preoccupante delle classi dei donatori fino ai 45 anni e ha detto cercate di fare qualcosa perché da qui a breve toccheremo il fondo. L'Italia, così come anche la Sicilia, si sta reggendo grazie ai donatori da 46 anni in poi che donano più volte durante l'anno. Cosa sta facendo la regione siciliana? Ha stipulato un accordo, un protocollo di intesa a settembre per consentire alla sanità pubblica attraverso le associazioni dei donatori volontari di sangue che in Sicilia raccolgono l'85% del fabbisogno, direttamente nelle scuole. Andare nelle scuole e sensibilizzare nuove generazioni per cercare di andare in controtendenza e recuperare questo gravissimo gap che ci separa dall'autosufficienza, soprattutto con riferimento al plasma. Faccio conto che a noi mancano per essere autosufficienti per il plasma da cui si estraggono poi gli emoderivati, i plasma derivati, in particolare immunoglobuline e albumina. A noi mancano ancora 27.000 chili di plasma che sono paragonabili a 77.000 donazioni per una sacca di 350 cc come media, ma 77.000 donazioni sono tantissime. Allora qual è il piano della regione siciliana e dei centri trasfusionali? Intervenire nelle scuole, sensibilizzare i ragazzi 18 anni a donare il sangue perché una donazione di sangue dura alcuni minuti, no? E sensibilizzare invece i donatori periodici a passare alla donazione del plasma dove la donazione impiega più tempo, sono circa 45 minuti. Ma per fare questo c'è bisogno della collaborazione dei genitori e dei docenti. Perché questo? Perché il sangue per essere trasfusso deve essere pulito già a monte. Quindi i ragazzi devono aderire a correttissimi di vita, quindi tenersi lontano dall'alcol, tenersi lontano dalle droghe e da tutto quello che può portare problemi al sangue. Qual è la cosa importante? Perché il sangue non è importante soltanto per chi lo riceve, ma anche per chi dona, perché attraverso la donazione del sangue, e questo lo dico ai genitori in particolare, se c'è un problema proprio al sangue, noi ce ne accorgiamo subito. E attraverso la sanità pubblica possiamo immediatamente intervenire. Si dice sempre che prevenire è meglio che combattere, non che curare. E se ci sono anche dei possibili tumori al sangue, ce ne accorgiamo immediatamente. E quindi interveniamo. Quindi, cari genitori, aiutateci ad aiutarvi. Volontariato siciliano a rischio default. Questo è il grido d'allarme lanciato dal presidente del Comitato delle Misericordie della provincia di Catania, Alfredo Di Stefano, che sta raccogliendo le preoccupazioni delle tante misericordie catanesi e di altre organizzazioni di volontariato e protezione civile siciliane, che proprio in queste settimane stanno ricevendo cartelle pesantissime dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione, relativamente alle tasse di proprietà di mezzi impiegati quotidianamente nel soccorso della popolazione. Il volontariato siciliano è a rischio. Questo è il grido d'allarme lanciato dalla presidente del Comitato delle Misericordie della provincia di Catania, Alfredo Di Stefano, che sta raccogliendo le preoccupazioni delle tante misericordie catanesi e di altre organizzazioni di volontariato e protezione civile siciliane, che proprio in queste settimane si stanno vedendo recapitare cartelle pesantissime da parte di Agenzia delle Entrate e Riscossione, relativamente alle tasse di proprietà di mezzi impiegati quotidianamente nel soccorso della popolazione. Una vera e propria scura è che, colpendo ogni mezzo, dall'ambulanza ai mezzi antincendio, senza tralasciare anche i veicoli per trasporto disabili, che rischia di paralizzare, da un lato, i servizi ordinari svolti dalle singole misericordie, dall'altro l'intero sistema di intervento della protezione civile regionale che poggia le sue fondamenta proprio sul volontariato. Se la regione siciliana, per il tramito i suoi enti di riscossione, hanno deciso di far chiudere i battendi alle associazioni di volontariato che sopravvivono solamente con le offerte dei cittadini, che lo dicono chiaramente. Fino a quando gestiva il tutto l'Agenzia delle Entrate, potevamo contare sull'esenzione in virtù di un decreto del Presidente della Repubblica del 57. Solo le misericordie nella provincia di Catania contano oltre 120 mezzi, che corrispondono a oltre 40.000 euro di bolli annui. Il mancato pagamento comporterebbe il fermo amministrativo e l'impossibilità di intervenire sia nel quotidiano, sia in situazioni di emergenza, senza contare le eventuali rivalse sul patrimonio dei singoli Presidenti. Chiediamo al Presidente Schifani, alla Giunta regionale, di intervenire tempestivamente su queste criticità. Almaviva, le RSU sindacali hanno incontrato a Palermo il Viceprefetto, spiegando la situazione dei 450 lavoratori del servizio 1500 attivo durante il periodo del lockdown e che adesso rischiano di perdere il lavoro e chiedono una mediazione con i ministeri. Sono i lavoratori della commessa del 1500, un numero di servizio ministeriale di pubblica utilità che hanno svolto egregiamente il loro lavoro durante un periodo complicato per il Paese, che era quello della pandemia. Ora, diciamo, sembra che il mostro Covid sia in fase, diciamo, di regressione. Le attività del servizio del 1500 continuano a diminuire. Sono lavoratori che, già con stipendi bassi, all'assodattuale sono all'85% di ammortizzatore sociale. Quindi serve un tavolo ministeriale, serve fare chiarezza se ci sarà un appalto che continuerà le attività del 1500 o comunque garantire a questi lavoratori il perimetro occupazionale di questi lavoratori che principalmente sono in Sicilia, fa Palermo e Catania, che non possano pagare dazio due volte, non solo in termini di ammortizzatore sociale, ma anche in termini, diciamo, di dismissione delle attività di Alma Viva progressive in ambito di contact center. Crediamo che si debba trovare una soluzione che possa salvaguardare tutti. Non credo che sia accettabile. Abbiamo, diciamo, aspettato che si costituisse un nuovo governo per far sì che comunque ci siano delle parti che vengano convocate per trovare soluzioni per tutti. È una situazione paradossale perché per lavorare rischiamo di non lavorare. È un paradosso, appunto. La preoccupazione è molto realistica, purtroppo. Tra l'altro siamo in un'età non collocabile lavorativamente. Io personalmente ho 48 anni. Non è facile. La paura, sì, è molto realistica, purtroppo, sì. Noi lavoriamo in American Express, almeno io, da 18 anni. Adesso Amex ha deciso di internalizzare in Spagna. Quindi si riprende il servizio in house e non si preoccupa di noi che ovviamente rimaniamo senza lavoro. Quindi dall'oggi al domani ci viene comunicato che il servizio passerà in Spagna, quindi è la sede Amex di Spagna e noi ci ritroviamo senza lavoro. Siamo lavoratori Almaviva, entrambi lavoratori part-time. Sul 1500 da quando è nata l'emergenza Covid ed entrambi oggi siamo a rischio. Siamo dei numeri, non siamo più delle persone. Siamo a forte rischio perché non sappiamo il nostro domani. Abbiamo dato un servizio alla cittadinanza, abbiamo dato un servizio alla nazione. adesso sia gli imprenditori che la politica, quella politica che ci ha chiesto di lasciare le nostre commesse e andare a lavorare e rispondere per questa emergenza, adesso ci deve dare delle risposte perché appunto noi non siamo dei numeri ma siamo delle famiglie, siamo delle persone e abbiamo dignità. Non vogliamo calpestare la nostra dignità. E ora cambiamo decisamente argomento. Il premio Oscar Nicola Piovani apre a Modica la stagione musicale del Teatro Garibaldi sul palco con note a margine. Il Teatro Garibaldi di Modica apre le sue porte all'avvio della nuova stagione per gioire e musica con dieci imperdibili, affascinanti e variegati appuntamenti. Il primo evento che ha bruciato il botteghino in appena due giorni è stato note a margine con lo straordinario Nicola Piovani. Nota a margine è un racconto musicale che ripercorre il cammino artistico del compositore e che come in immaginarie stazioni di un viaggio tra le note rivive memorie, esperienze, aneddoti e incontri con personaggi come Federico Fellini, Fratelli Taviani, Roberto Benigni, Bigas Luna e tanti altri. Sono tutti tasselli di un mosaico che raccontano di una vita fatta di cinema, teatro, letteratura e naturalmente di musica. Un racconto appassionato che incrocia le sonorità di tre strumenti il pianoforte suonato dal maestro Piovani, il sax di Marina Cesari e il contrabbasso di Marco Loddo. Le note a margine del concerto non sono i piccoli appunti, le osservazioni o le riflessioni che vengono annotate ai margini di una pagina, ma sono significative esperienze di vita, profonde ed emozionanti testimonianze personali in cui ogni nota è unica, appassionata e centrale, rappresentativa di una bellezza totalizzante perché, come ha dichiarato Piovani, non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica. Parte ufficialmente domani il programma di Leonforte Crea, rassegna dedicata al cinema, all'arte e alla cultura che coinvolgerà le scuole del territorio. Cinque mesi di eventi con incontri di approfondimento, documentari, mostre e incontri con gli studenti. Vediamo. Grandi nomi dell'arte, del cinema e della fotografia per la prima edizione di Leonforte Crea, una rassegna pensata come un percorso culturale ad ampio raggio che porterà nel cuore della Sicilia artisti, registi, fotografi, intellettuali pronti a raccontarsi davanti a studenti e nonno, protagonisti di talk show, incontri di approfondimento e di intrattenimento, workshop e mostre. L'idea di questa piccola e preziosa rassegna di Alberto Maria, giovane regista leonfortese realizzata con la collaborazione fattiva di Alessandro Aiello. È stato sviluppato un calendario articolato in più mesi, dal 23 novembre 2022 al 22 marzo 2023, giorno in cui è stata istituita la giornata in memoria di Giovanna Maria, impegnata e appassionata operatrice culturale e sociale molto nota nel piccolo centro in provincia di Enna. La manifestazione aprirà i battenti il 23 novembre al liceo scientifico Enrico Medi di Leonforte. Leonforte Crea è un sogno che si sta concretizzando in rassegna artistico-culturale a Leonforte da novembre a marzo 2023. Inizialmente il progetto doveva essere semplicemente una giornata in memoria della professoressa Giovanna Maria, appassionata operatrice culturale e sociale di Leonforte, scomparsa nel 2020. Successivamente abbiamo pensato io e tante persone, associazioni, in particolare Scuola Fuori Norma di Catania, che si occupa di formazione esperenziale di prodotti audiovisivi, e l'Università Popolare di Leonforte, di creare questa rassegna che farà convergere a Leonforte professionisti, artisti da ogni parte della Sicilia e anche fuori. In particolare interagiranno anche realtà siciliane conosciute in tutto il mondo come Farm Cultural Park e la fondazione Fiumara d'Arte di Antonio Presti. E si è svolto a Raffadali presso lo Sports Center il secondo memoria e il ricordo di Nino Virone, giovane puliziotto penitenziario venuto a mancare a causa di una grave patologia. Il giovane è stato ricordato durante un quadrangolare di calcio A5 che ha visto la partecipazione del reparto di polizia penitenziaria degli istituti penitenziari Petrusa di Agrigento, Piazza Lanza di Catania e Pagliarelli di Palermo. Era un angelo per me l'ho conosciuto poco perché purtroppo è successo quello che è successo però quel poco che l'ho conosciuto diciamo che era come se l'avessi conosciuto da una vita. Sono contento che viene ricordato ogni anno con questo memoriale perché proprio fare memoria di una figura del genere è importante. Sia per la famiglia perché giustamente rimane nei ricordi vivi e soprattutto nei ricordi positivi belli della sua vita e sia anche in tutto questo contesto di giovani che sono stati vicini con l'amicizia perché rafforzano di più questo senso di amicizia che la morte non spezza a fortuna di sua amicizia anzi la rafforza. Agrigento regala la coppa a leva e anche i colleghi di Pagliarelli nonché quelli di Persa Lanza hanno aderito con un grande entusiasmo proprio per la vicinanza di Mino perché le ho conosciuto un po' anche da altri sia perché la Catania ha preso il servizio ma anche i colleghi di Pagliarelli hanno sposato questa causa e hanno preferito essere presente. Vocaboli del dialetto palermitano che scompaiono a Villa Abate è stato presentato il libro di Giovanni Dino vediamo il servizio questo libro diciamo viene da una lunga gestazione l'avevo iniziata innanzitutto le parole che scompaiono è una raccolta di termini della parlata orale che naturalmente non vengono più citate non vengono più dette però appunto le parole che scompaiono è un libro che è un lavoro che ho iniziato sul finire degli anni Ottanta allora frequentavo il comitato Utopia il comitato Utopia che l'aveva creato Giovanni Giannone l'architetto Giovanni Giannone e che ancora esiste e lui è il titolare il direttore l'avevo iniziata lì questa raccolta di termini che non si dicono più che tendono a scomparire ma non solo questo anche altre cose ho iniziato avevo iniziato a raccogliere e a scrivere e che piano piano ogni volta aggiungevo sempre qualche parola qualche parola fino a quando è arrivato il momento della pubblicazione ma sicuramente va aggiornato ci sono ancora termini che io non ho scritto perché mi sfuggono quindi di volta in volta ecco chissà una nuova edizione verrà poi aggiornata diversi vocabili sono scomparse almeno un 40% di quelle che sono scritte nel libro un 40% sono letteralmente scomparse sono diventate arcaismi altri tendono a scomparire non è in questa generazione la generazione futura sicuramente non adopererà più questi termini poi questo libro porta termini che ho scoperto che diciamo solo qua a Villabate nome tipici villabatese ad esempio dico questo reula reula voleva dire regina è un termine che solo qui a Villabate si diceva reula real femminile è in questi ultimi anni che mi sto dedicando un po' alla saggistica un po' anche alla storia alla storia locale proprio per amore del mio paese ho tante cose in cantiere che sto raccogliendo che ho raccolto e ora via 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 vado pubblicando ad esempio i mestieri scomparse di cui c'è un mestiere tanto caro a me di cui io l'ho frequentato i miei fratelli l'hanno fatto l'aero quando si cavava così ad esempio i cuffolara che facevano le cuffe insomma mestiere che ormai non esistono più e che io ho preso a cuore che intendo raccontare queste storie e questa era l'ultima notizia io vi ringrazio per essere stati con noi vi do appuntamento con la prossima edizione di Media News e vi auguro buon proseguimento di ascolto e vi auguro